Sono Raffaele Fusco, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Asti, nonché coordinatore della Federazione della Regione Piemonte-Valle d'Aosta. Oggi è una giornata perché a Roma? Perché a Roma è l'inizio, perché Roma ha iniziato questo percorso del centenario che poi si svolge in tutta Italia, anche in Piemonte e a Torino si farà questo tipo di manifestazioni. L'architetto è un ruolo centrale per lo sviluppo delle città, per lo sviluppo della società, lo sappiamo ed è giusto celebrare questi momenti e parlare di architettura, di urbanistica, di PNRR, che sono i temi del momento, che è il tema della rigenerazione edilizia e urbana delle città, che è il momento che va a risolvere e va a rispondere ai bisogni della società stessa.